Sindaco, stato di agitazione da parte del sindacato Will, siete preoccupati? No, non siamo preoccupati, siamo nella normalissima interlocuzione con, in questo caso con un sindacato. Credo che l'assessore Core abbia puntualmente risposto e chiarito in consiglio comunale, nell'ultimo consiglio comunale, tutti gli aspetti sollevati in relazione alla situazione del personale, soprattutto alla programmazione che è in campo, che è una programmazione già avviata e che ci consentirà ovviamente da qui a breve, in tempo record, grazie al lavoro che è stato fatto soprattutto nell'ultimo anno, dall'assessorato e dalla struttura, il personale che ha recuperato il tempo perso e soprattutto l'assenza di programmazione, una sofferenza del personale che appartiene a tutti i comuni italiani, in un momento di grande difficoltà e quindi siamo assolutamente sereni, ci sarà un'interlocuzione come sempre c'è stata. I tempi per i pagamenti, per esempio, delle produttività? Saranno assolutamente strettissimi, quindi è un problema che è stato puntualmente affrontato e verrà definitivamente risolto anche chiudendo il 2020. Mi consenta, visto la oggettiva difficoltà che, ripeto, il Comune di Teramo, le amministrazioni pubbliche, tutti i comuni italiani hanno, ma io mi voglio rivolgere al nostro personale, al mio personale, devo ringraziarli con tutto il cuore per l'attività che quotidianamente svolgono in una situazione di oggettiva difficoltà dopo anni di assenza di programmazione che con la quota 100 hanno determinato la situazione che si sta vivendo e per le attività che hanno svolto nel corso dell'emergenza pandemica e che continuano a svolgere quotidianamente. Da sindaco sento il dovere di farlo e l'impegno che abbiamo assunto, ma che stiamo assolvendo, è quello di arrivare ad assumere, di mettere energie fresche, risorse nuove, i piani di assunzione sono già in fase di attuazione con i concorsi che sono stati banditi, a differenza di altri enti. Abbiamo altri enti, magari paragonabili del capoluogo di provincia, la provincia ad esempio, che si trova in una situazione di estrema difficoltà al palo per quanto riguarda i concorsi, perché c'è una difficoltà oggettiva nell'organizzare i concorsi. Noi questa difficoltà l'abbiamo affrontata e superata grazie al lavoro degli uffici. Quindi grazie al nostro personale e soprattutto rispetteremo l'impegno di rimpinguare le risorse e dare una prospettiva più forte a Teramo, città-capoluogo.